Star in the Star il nuovo show condotto da Ilari Blasi, continua ad essere al centro delle polemiche. Se all'inizio la cherela era legata alla troppa somiglianza con il erodassimo show di Rai 1 condotto da Carlo Coni tale e quale show? Ora a tenere banco sono gli ascolti. I bassi ascolti per essere precisi. Leggi anche, stasera in tv, Star in the Star su canale 5, chiude in anticipo. Cosa succederà stasera? Ed ecco spuntare sui social un post di Fabrizio Corona che senza troppi giri di parole definisce lo show un flop. Solo flop, Ilari Blasi. E questo il commento dell'ex re dei paparazzi, che segnala poi i dati di ascolto della seconda nutanta. Star in the Star lo scorso giovedì 24 settembre è stato seguito da 1,816,000 per l'11,5% di share. Un messaggio che è il sapore di una piccola vendetta su Ilari Blasi, dopo il faccia a faccia avvenuto tra i due nel 2018 durante l'edizione del GFVP che vedeva tra i concorrenti della casa l'allora fidanzata di Corona, Silvia Provvedi. Rivincita o meno, i bassi ascolti di Star in the Star sono un dato di fatto, tanto che secondo tvblog il programma potrebbe chiudere i battenti anticipatamente. Crediti foto ed ufficio stampa Mediaset. Grazie a tutti. Grazie a tutti.